Marco Sesia, allenatore del Torino Primavera, è terminato il test con il Bra, 3-1 per la sua formazione granata, è terminata anche la prima settimana di preparazione qui a Cantalupo, adesso vi sposterete in Val d'Arosta, però quali sono le sensazioni che ha avuto dal test con i giallorossi? È stata una buona partita, noi stiamo cercando di metabolizzare un nuovo sistema di gioco, quindi soprattutto nel primo tempo ho visto delle buone cose, sono contento, nel secondo tempo abbiamo messo un po' meno kg, 10 cm, abbiamo sofferto più la fisicità del Bra, che è un'ottima squadra, è stata una buona partita, è stata una buona amichevole, a ritmo e a intensità a campionato, era quello che volevo, non ci sono stati infortunati, quindi tutto bene. Come è stata questa prima settimana di lavoro qui a Cantalupo? È stata una settimana di lavoro intenso, fisico, tattico e tecnico, l'unico incidente è stato Gazzolini, l'esterno destro di destra, che ha avuto un problema fisico, adesso che dovrà valutare, per il resto tutto bene. Adesso, come ho detto prima, vi spostate in Valle d'Aosta, andate a Morgé, se non sbaglio per due settimane intense di lavoro, insomma, caricherete i muscoli dei ragazzi? Sì, sì, daremo continuità al lavoro fatto e cercheremo di mettere benzina. È iniziata questa avventura per lei sulla formazione Granata e con la primavera, quali sono i suoi obiettivi e poi ovviamente quelli di squadra che ha condiviso con la società? Il mio obiettivo è cercare di fare il meglio possibile a livello di punteggio in campionato, dando continuità agli ultimi anni dei suoi risultati del Torino Calcio e soprattutto di valorizzare i giovani in futuro prima squadra. Per chiudere, anche se questa era la prima amichevole, chiede se è fatto del Bra e comunque come l'ha visto come avversario? Però è un'ottima squadra che non lo scopro io, c'è giocatori importanti per la categoria e io credo che è una squadra che di sicuro come previsione arriverà tra le prime cinque.